Moscone, eccomi, prego, volevo levarmi tutto, tranne mutande e calzini, no i calzini, no mi vuole proprio umiliare, non si preoccupi tanto non la vedo, qualcuno ha perso una sciarpa, c'è del rosso vero, dare un colore alle cose mi aiuta a vederle, per voi è un po' più difficile, siete per forza di cose più legati all'apparenza, tutto bene? Perché ce l'hai in una faccia quando sei rientrato? Oh, le solite rotture, non ci credo, la cieca, com'è? Non è niente male, ti ricordi quel discorso sui colori che abbiamo fatto, mi ha fatto venire in mente l'idea per uno spot di una macchina, ti devo una cena? Il mio ex marito diceva sempre che non si esce mai con i pazienti, Perché cazzo non mi rispondi al telefono? Sto facendo volontariato, volontariato? Sì, con una cieca, ogni tanto ne do una mano, poveretta. La cieca è il pubblicitario, ma quanto non ci credo, non ci credo, non ci credo.